Sono 463 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Puglia, nell'ultimo bollettino regionale che fotografa l'andamento della pandemia sul territorio. Quasi 21.500 i test effettuati e si registra purtroppo anche un decesso. Risalgono gli attualmente positivi che superano i 5.000 attestandosi a 5.153 persone che combattono in questo momento contro il virus. Sono 253 invece coloro i quali hanno sconfitto il Covid-19. Buone notizie arrivano invece dai ricoveri che continuano a calare. 127 i pazienti in area non critica, due in meno di ieri, mentre restano 18 in terapia intensiva. I numeri provincia per provincia sono piuttosto omogenei, tranne che per Bari in cui oggi si contano 147 nuovi casi di contagio. Sono 85 in provincia di Foggia, 75 in quella di Brindisi, 64 a Lecce, 55 a Taranto e 43 nella BAT. Per quel che riguarda l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti ormai in Puglia si aggira attorno ai 60 casi anche se restano molto basse le percentuali di occupazioni di posti letto nelle strutture sanitarie. Resta Foggia la provincia con il tasso più alto di incidenza, ormai oltre i 100 già da qualche giorno, in risalita anche la BAT che è stata per diverso tempo la provincia d'Italia con l'incidenza più bassa.